La battaglia tra l'OPEC e i produttori di petrolio di scisto statunitensi è appena cominciata. Parola dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che nell'ultimo rapporto analizza l'andamento del mercato dell'oro nero. Punto numero uno, l'eccesso di offerta rispetto alla domanda che ha caratterizzato gli ultimi mesi sembra lontano dalla fine, nonostante un recupero dei prezzi. Punto numero due, i produttori di scisto statunitensi, pur avendo accusato il colpo di un costo al barile quasi dimezzato dopo la decisione dei paesi del golfo di non tagliare la produzione, stanno mostrando un notevole grado di resistenza.